La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per tre ex amministratori e dirigenti della Banca Popolare di Bari, tra i quali l'ex condirettore generale Gianluca Iacobini e per lo stesso istituto di credito per i reati di ostacolo alla vigilanza e falso in comunicazioni sociali. Si tratta di uno dei filoni sulla gestione della banca commissariata a dicembre del 2019 relativo alle cosiddette operazioni baciate che nell'aprile scorso ha portato al sequestro di beni per circa 16 milioni di euro. Rischiano il processo anche Giuseppe Marella e Nicola Loperfido, rispettivamente ex responsabili dell'internal audit della direzione business dell'istituto di credito barese. L'udienza preliminare inizierà il 28 gennaio prossimo dinanzi al GUP del Tribunale di Bari, Marco Galesi. Nel procedimento sono individuate come persone offese anche Banca d'Italia e Consob. Stando alle indagini della Guardia di Finanza coordinate dal procuratore facente funzione Roberto Rossi e dai sostituti Savina Toscani e Federico Perrone Capano, gli indagati avrebbero concesso finanziamenti ad alcuni clienti della banca, prevalentemente grossi gruppi imprenditoriali, a patto che poi fossero almeno in parte direttamente o indirettamente utilizzati per l'acquisto di azioni proprie, complessivamente incidenti sui fondi propri della banca, in negativo per 48,9 milioni di euro. Il valore delle azioni così vendute, cioè di fatto comprate con fondi della banca stessa, sarebbe poi stato inserito indebitamente nel patrimonio di vigilanza, così falsificando e sovrastimando la situazione economica dell'istituto di credito. In questo modo gli ex dirigenti della Popolare di Bari avrebbero ingannato Banca Italia e tutti gli altri soci presentando una solidità finanziaria inesistente e non corrispondente al vero oltre che sovrastimata.